Niccolò Meucci è il neopresidente della consulta dei giovani di Bagna Arbignoli, cosa vuole fare questa consulta? Quali sono i vostri obiettivi? Il nostro obiettivo principale è sicuramente quello di rendere questo comune, il nostro territorio, non più un paese per vecchie, questa è stata la problematica principale. Sicuramente uno spazio molto importante vi è dato poi a una componente propositiva della nostra consulta, quindi forniremo proposte, progetti all'amministrazione per cercare di riavvicinare i giovani alle istituzioni e anche per sensibilizzare poi gli stessi su tematiche di interesse collettivo, perché poi si tende a considerare poi i giovani come anche, come dire, fine a se stessi, ma poi si interessano di tematiche che riguardano la collettività tutta. Quindi cercheremo di elaborare quanti più progetti possibili riguardo a tematiche scolastiche, ambientali, rolfariste e quindi sull'inclusione lavorativa e basta sostanzialmente. Ma vi rivolgete ai giovani e basta o anche al resto della popolazione? Allora noi ci rivolgiamo in primis ovviamente ai giovani che necessitano di uno spazio per poter esprimere la loro voce. Ciò non toglie che anche, diciamo, fasce anche leggermente cadute, anche più piccole, possano partecipare perché la partecipazione ai lavori della consulta è sempre garantita. È tutelato, diciamo, dal punto di vista della libertà della commissione, della consulta rispetto all'amministrazione coronale che l'ha creata? O c'è un po' di timore reverenziale? Allora, io ringrazio l'assessore Pignotti e il consigliere Polso Pedruzzi perché ci hanno lasciato molto liberi, ecco, di scrivere il nostro statuto e affiancandoci anche social, proprio in un gruppo di esperti nella costruzione dei progetti partecipativi, quindi per cui ci hanno lasciato davvero molto liberi. Poi è ovvio che, diciamo, quando c'è da scrivere uno statuto di un certo tipo, un po' di, ecco, come dire, un po' di confronto e dialogo è necessario, però è sempre stato costruttivo. Allora in bocca al lupo! Grazie, grazie.